è dedicata a san silvestro papa ma è nota anche come madonna di piazza per il dipinto che ne abbellisce l'altare e si trova in piazza 20 settembre a fano e ne costituisce l'unico edificio religioso la chiesa è una delle più antiche del centro storico risalendo al dodicesimo secolo sull'altare maggiore è collocato appunto il dipinto della madonna di piazza del 1606 attribuito a giovanni beglione venerata anche dal corpo della polizia municipale che fino ad un decennio fa celebrava qui la ricorrenza della sua fondazione la madonna di piazza è sempre stata invocata in più occasioni dai fanesi che si sono rivolti a lei in occasioni di particolare pericolo o calamità nell'anno 1855 il colera si diffondeva largamente e con esito letale affano anche allora i fanesi ricorsero alla celeste protrettrice maria santissima della speranza e si proposero di ampliare e abbellire il tempio difatti l'opera fu compiuta nel 1862 come ricorda anche la lapide con iscrizioni in latino che campeggia sulla porta della sagrestia e il tempio fu consacrato il 15 giugno dal vescovo di fano monsignor filippo vespasiani nel secolo scorso nell'ottobre del 1918 quando la terribile epidemia della spagnola infieriva terribilmente tra la popolazione la santa immagine della madonna della speranza fu privatamente trasportata in duomo per un solenne triduo poi quando si trattò di riportarla privatamente nottetempo nella sua chiesa la notizia trappelò tra la gente e il duomo fu assediato dalla folla e sollevato il quadro da alcuni soldati fu riportato a san silvestro senza pompa magna e senza lumi ma seguito da centinaia di persone silenziose e commosse questa è la preghiera probabilmente scritta per l'epidemia del colera e pubblicata su una immaginetta nel 1931 con l'imprimatur del vescovo di fano protretrice del popolo fanese madre della santa speranza maria santissima per la cui potente intercessione da noi implorata avanti alla vostra prodigiosa immagine si è tante volte placato il vostro divin figliuolo rimanete con occhio propizio su questa città proseguite ad usare verso di noi la vostra materna assistenza e liberateci da tutti i pericoli dell'anima e del corpo grazie a tutti